E ciao ragazzi, io sono Fablinker e oggi siamo qua per un nuovo video per parlare di PlayStation VR Il caschetto targato Sony Oggi è uscita sul PlayStation Blog una news, un comunicato ufficiale da parte di Sony In cui si dichiara che Sony sta lavorando a un nuovo caschetto, a un nuovo PlayStation VR Che non so, il nome non è ancora definito ma possiamo chiamarle PlayStation VR 2 anche se fa abbastanza schifo come nome Ma ragazzi, a parte questo, di cosa si parla? Innanzitutto di tecnologia DualSense per i giochi in VR di prossima generazione Innanzitutto non uscirà quest'anno, ma penso che uscirà tra il prossimo anno e 2023, immagino a questo punto E si è parlato di mettere il VR con solamente un cavo Finalmente un cavo e basta per tutto quanto Non come il primissimo VR che aveva 700 cavi e per attaccarlo ci voleva tipo un'azienda di... Insomma di elettricisti ecco Pronta lì ad attaccare i cavi che era un macello Io infatti non l'ho più collegato perché ogni volta che lo collego ci perdo le ore e mi rompo anche le scatole E poi c'è avere tantissimi cavi in mezzo è abbastanza una scocciatura Già che di per sé ne ho abbastanza di cavi Quindi si parla di mettere solamente un cavo che sarebbe una benedizione Poi di cosa si parla? Di una definizione aumentata Finalmente Anche per levare questo motion sickness che dà problemi Almeno a me dà problemi perché non riuscivo a giocare al VR Perché dopo un po', dopo mezz'ora a me veniva già da vomitare E di conseguenza cavando questo problema ne cavi tanti altri Quindi riuscirei ad usarlo Chiaramente questa volta magari lo provo con un po' più di... Di tempo perché non voglio andare all'acquisto che... Come l'altra volta che l'ho acquistato il primissimo Poi l'ho usato quanto? Due settimane, vabbè Ma non perché non mi piacesse Ma perché soffrivo di questa piccola cosa Tra l'altro piccolo aneddoto Quando l'ho provato la prima volta al Media World Con Until Dawn, Russian Blood Non mi diede nessunissimo problema E lo comprai a botta sicura Morale della favola Quello lì è l'unico gioco che non mi fa vomitare Cioè è incredibile, incredibile Oh, la sfiga seccanita Comunque si parla di questo Si parla di un frame migliorato giustamente Insomma, l'esperienza un po' più... Come dire, un po' più realistica Ecco, perché comunque bisogna competere con colossi come HTC E Oculus, in poche parole Quindi, insomma, non sarà facile Quindi, questo è Io, in poche parole, spero che comunque Venga assottigliato di molto Questa cosa da definizione Per fare in modo che io possa giocarci finalmente E che tantissime persone, oltre a me, possano giocarci Perché non sono l'unico che ne soffre E mi auguro che i cavi siano meno Come dire, imponenti, ecco Ma questa roba sembra già essere Come dire, risolta da Sony Che avrebbe dichiarato questa cosa qui Quindi, speriamo bene Aspettiamo nuove info per parlarne insieme E niente, ragazzi Io vi saluto Ci becchiamo per un prossimo video Domani voglio parlare di un'altra cosa Vorrei fare questi video una volta al giorno Piccoli video in cui faccio news Cose del genere Che possono interessare me e voi Soprattutto me Perché se no non le faccio Se non mi interessano le news Non le faccio E niente, ragazzi Ci becchiamo domani Allora a questo punto Ciao ragazzi Ciao ragazzi Ciao ragazzi Ciao ragazzi